Salve a tutti e benvenuti a un altro appuntamento con Pilloli News 20 di Rivera Oggi, per ricordarvi gli eventi principali della zona di questa settimana fino all'8 settembre. Dall'1 al 4 settembre segnaliamo subito a San Benedetto, dal 18 alle 22, presso Via Le Buozzi, il mercatino francese con prodotti vari della Francia. Sabato 2 settembre invece a Grotta a Mare, a Piazza Cursal, alle 21.30, lo spettacolo Tango di una notte di fine estate. Dal 2 al 9 settembre invece ad Offida si svolgerà il Festival dell'Opera, quest'anno dedicato alla figura del soprano Maria Callas. Due appuntamenti da segnalare sabato 2 settembre alle 21.15 al Teatro Serpente Aureo, dove ci sarà il concerto inaugurale, dal titolo Tre Soprani per la Divina. E domenica 3 settembre alle 21.30 sempre al Teatro Serpente Aureo, con un concerto omaggio al cinema dell'Orchestra dei Fiati di Offida. Il 3 settembre invece partirà fino al 1 ottobre l'Ascoli Piceno Festival, con diversi concerti che si svolgeranno in varie location, tra Ascoli, San Benedetto e Offida. Tra gli appuntamenti della settimana ricordiamo il Fluxman's Cell Weekend, dei concerti itineranti che si svolgeranno sabato 2 e domenica 3. Sabato 2 presso il Molo Sud di San Benedetto alle 18, mentre domenica 3 dalla mattina alla sera in diversi luoghi di Ascoli, tra chiostri, piazze, giardini. Ed è un concerto appunto di violoncellisti, che omea di apertura del festival, in onore, in ricordo del fondatore del festival Michael Fluxman. Domenica 3 settembre invece si apre a Sant'Egida la Vibrata un altro festival musicale, il Festival Internazionale della Musica per Organo. E si apre con un concerto di musica barocca presso la Chiesa Parocchiale alle 18, dove si esibiranno Claudio Di Bucchiani con Lobo e Gianluigi Spaziani all'Organo. Il 2 e il 3 settembre segnaliamo anche a Castignano, per i festeggiamenti in onore della Santissima Adolorata, due appuntamenti, due eventi. Alle 21, sabato 2 settembre, il concerto della banda musicale di Castignano, con la partecipazione della banda della città di Baia e Latina. Mentre domenica 3 settembre alle 17.30 il raduno delle bande musicali e dei cori polifonici della provincia di Ascoli Piceno, a seguire poi parate per le vie cittadine e l'apertura alle 19 degli stand gastronomici. Mentre mercoledì 6 settembre, nell'ambito del festival dell'Opera di Offida, un appuntamento all'Enoteca regionale, a cena con Maria. Una cena ispirata ai gusti del soprano Maria Callas, con letture, danze e aria d'opera. Mentre chiudiamo, venerdì 8 settembre, ad Ascoli Piceno, per l'Ascoli Piceno Festival, all'Auditorium Neroni, alle 20.30, il concerto Mendelssohn Days, suonata per violoncello e pianoforte, con Christophe Coyne al violoncello e Roberto Prosseda al pianoforte. Per il momento è tutto, alla prossima!